Buonasera a tutti, benvenuti, vi ringraziamo per essere qui e a partecipare a questa conferenza stampa che introduce il primo momento dedicato al Venezia Camp e quindi al Bar Camp questa non conferenza, questa serie di non conferenze con il pubblico in cui diventa direttamente non solo spettatore ma anche relatore, un confronto, un dialogo costante. Il Bar Camp è appunto questa nuova modalità di incontro, di confronto, di sperimentazione delle innovazioni ed è questa nuova caratteristica che riguarda le competenze orizzontali dove tutti si possono confrontare e dove tutti dialogano. Il Venezia Camp è appunto ospitato qui nella location Vega dove uno delle caratteristiche e uno dei luoghi principali in cui si lavora e si fa networking è il co-working, questo luogo in cui persone con competenze specifiche si relazionano tra di loro, si confrontano e costruiscono le loro collaborazioni. presentiamo quindi Maurizio Galluzzo dell'Associazione Nord-Est Digitale per presentare il programma del Venezia Camp e le iniziative. Grazie, grazie Francesca. Intanto vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio fin da subito Vega e la persona del direttore Michele Vianello e tutto lo staff che ci hanno aiutato a organizzare questo evento. Noi abbiamo pensato per l'ennesima volta di portare per tre giorni a Venezia le tecnologie digitali e non solo e ripensare quello che è il modello social di fare impresa. Il Venezia Camp nasce da un progetto di appunto Michele Vianello, di Gigi Kogo, di Roberto Scano e di Andrea Casadei che sono stati i fondatori che hanno fatto la prima edizione e le edizioni successive. Da due anni come associazione Nord-Est Digitale di cui queste persone sono ovviamente fanno parte del comitato scientifico, gestiamo questo progetto e invitiamo a ripensare per l'appunto questi nuovi modi. Noi abbiamo immaginato di creare delle sessioni, delle sessioni molto aperte e disponibili, abbiamo un sito inter che si chiama veneziacamp.org dove ci si può registrare e per tutto un anno sarà possibile proporre idee e progetti che andranno alle imprese, andranno ai professionisti e andranno a tutti coloro che nel settore vogliono svilupparsi. Siamo molto attenti all'aspetto delle start-up, cosa che anche il Vega è una delle sue mission più importanti e io vorrei con questo chiudere velocemente e passare la parola alla prossima sessione che è quella dedicata al premio Gartano Marzotto che è una delle cose più interessanti sicuramente di quest'anno. Grazie a voi. Sarà una sfida essere così puntuali, concisi come sei stato tu, per cui non so se io sarò in grado di raccoglierla. Vi ringraziamo, uso le parole di Alberto Baban quando è arrivato per descrivere quello che capita qui. Fuori ci sono le serrate, gli imprenditori che vanno in piazza, c'è un clima, si sta diffondendo un clima nel paese anche pesante, per cui sembra quasi paradossale parlare oggi di nuove imprese, immettere dei contenuti che non siano quelli critici della crisi. Invece penso che questa operazione che oggi è la presentazione del premio Gartano Marzotto che supera nettamente il nome che porta è la dimostrazione che si può costruire una rete evoluta, che esiste un ecosistema in questo territorio, un territorio allargato che è l'Italia, esiste un gruppo di imprenditori, di istituzioni, esiste una società civile che pensa che si possa ancora fare qualcosa in questo paese che sia impresa, cultura, innovazione, persone che investono quotidianamente. Siamo in un posto come il Vega che ha attivato un incubatore ed è un luogo dove c'è un sacco di energia che si sprigiona ma in 50-100 km di raggio dal luogo dove siamo c'è una grandissima e straordinaria vitalità che molto spesso non viene raccontata, non viene vista, non passa perché c'è un clima pesante. Quello che cercheremo di fare in modo piuttosto veloce e asciutto è di provare a manifestarvi attraverso una dimensione più aggregativa che è quella del premio che c'è un mondo che c'ha voglia di fare e di fare e di costruire. Il premio due note, poi lo leggerete, abbiamo raddoppiato, questa è la terza edizione, siamo partiti da una bizzarria di Giannino Marzotto che è mancato lo scorso anno che ha deciso di investire sul futuro, lui mi ha insegnato a guardare sempre il futuro e lui voleva quotidianamente avere qualcuno che gli parlasse di futuro. Sono state messe una cifra importante in un fondo che permette all'associazione di erogare quasi mezzo milione di euro in premi, in denaro, ogni anno. Su questo, per non renderlo agiografico, abbiamo detto che è importante costruire un sistema evoluto che guardi anche al territorio, per cui abbiamo cominciato a collaborare con il sistema dell'innovazione, con tutti gli incubatori più interessanti, con tutti i player più interessanti e oggi riusciamo ad avere quasi un premio che sfiora il milione di euro con soprattutto moltissimi percorsi di tutoring, di mentoring, di incubazione che trasformano, che ci fanno leggere un'Italia da nord a sud molto attiva, molto vitale, che ti fa dire bene, c'è un paese che c'è, che può crescere, si può sviluppare, per cui non sono neanche più piccoli semi, ma sono segnali invece molto evidenti di un'altra faccia del paese che è quella, senza retorica, sulla quale dobbiamo, penso, se siamo anche qui, credere e costruire. Io domanderei ad Alberto Baban, per cui faremo tutti degli interventi brevi e veloci, perché c'è tutta la prima fila di relatori, per cui siamo obbligati alla velocità, per cui faremo tutti interventi molto asciutti e brevi. Alberto Baban è stato di confermato vicepresidente di Confindustria Veneto, con delega all'innovazione, ma non è il tema, oggi non ci sono il tema delle poltroni, dei poltronifici, devo dire che è un imprenditore assolutamente straordinario, che ha trasformato una cosa apparentemente periferica o sfigata, che è un tappo, in un tappo cool ed è diventato una multinazionale, ed è diventato una multinazionale del tappo. Non stanco, cadendo molto anche nei sistemi ufficiali e unofficial, ha creato Vennetwork, assieme a 42 imprenditori di questo territorio, che mettono a disposizione un chip importante per veder nascere nuove imprese. Per cui Alberto è uno dei pezzi, uno dei motori importanti di questo territorio. Alberto. Ricordaci questa cosa che mi piaceva molto, che è il tema del fattore F. Diciamo che i maschietti sono più maliziosi, però mi sarebbe... Ma io, diciamo, il fattore F è un po' l'idea di quello che manca in questo momento, no? Fiducia e futuro, principalmente. Io, vedendo chi è presente qui oggi, conoscendone tantissimi di questi attori, mi chiedo, ma a cosa stiamo rinunciando? Perché stiamo rinunciando? E questa, io vi dico veramente un grosso grazie. Prima la rappresentazione di questo che è il premio Gaetano Marzotto, con il suo massimo rappresentante Ferdinando Businaro, tu che sei il comitato scientifico in pectore. Ma poi dico grazie a tutti perché io penso che sia il senso di quello che può essere il futuro, di come possiamo progettare il futuro. Bisogna che facciamo uno sforzo in questo momento qui. Dobbiamo capire che momento stiamo vivendo e dobbiamo capire invece che forza rappresentiamo. Sembra quasi tutto distrutto, sembra che nessuno abbia più voglia di combattere, sembra che sia stato già tutto deciso e sembra che la curva discendente, il declino, sia già stato stabilito da qualcuno, dal signor X. Non si è ancora capito chi sia questo. Sembra che ci vogliono tutti male. Ma io questa cosa non riesco più a percepirla, non riesco più a capirla. Ma dove siamo capitati e perché? Cosa sta succedendo? La potenza che c'è qui dentro, qui, questa platea, ha una forza di reazione, ha una forza di capacità di interagire con il mondo. Il mercato è lì che ci aspetta. Arrivano qui a flotte. Ci sono 20 milioni di cinesi, milionari, che vogliono venire qui a visitare Venezia e a cambiare idea sugli involtini primavera. Ma di cosa stiamo parlando? A cosa vogliamo rinunciare? A combattere. No, io non ci sto, mi dispiace. Io sono un imprenditore, sono fortunato perché ho un'impresa che va bene, perché esporta, come ormai va di modo di dire. Certo che se uno ha il mercato italiano è uno sfigato, però se esporti tu sì che vai bene. Anche questa logica va cambiata. Anche qui c'è mercato, anche qui c'è fiducia, anche qui c'è futuro, anche qui c'è qualcuno che investe sul futuro, su delle idee. Ma è una cosa pazzesca, è distonica, è da seduta psicologica questa. oppure invece è la normalità. La normalità è siete voi, siamo tutti insieme, che dobbiamo dire basta. Punto zero. Questo è più di un premio. Questo è un punto di svolta. Io lo vedo così. Mi sono stufato. Come imprenditore, in piccola parte perché adesso i rappresentanti istituzionali non vanno più di moda, però io mi sono preso questo onere e quindi lo porto avanti la bandiera. Vorrei che questo basta, fosse forte, detto tutti insieme, e la volontà di esprimere il più grande, io lo chiamo lavoratorio d'Europa, perché è un misto tra laboratorio e gente che mena le mani, che lavora, che è il Veneto. Ripartiamo da qui. Una forma di reazione che non deve avere più protagonisti. Non esiste più il protagonismo. Siamo a un livello diverso. Il protagonismo è il lavoro. È centrale il lavoro. Qui ci sono delle competenze, delle teste che fanno impressione, che ci invidiano tutti. Sapete cosa sta succedendo? Un secondo e non di più. Scusate, ma sono reduce da 47 interviste dove, non lo so, mi continuavano a dire, ma quanti suicidi prevede domani? Non lo so, che cosa sta succedendo? Ma siamo impazziti? Sono veramente arrabbiato. Io dico, la logica di quello che possiamo fare insieme, la rappresentazione della potenza, e non fare le cose da soli. Benetwork è un tentativo, è un tentativo di mettere insieme competenze. Il sistema di difesa dell'impresa oggi prevede di non lasciare da solo una persona. Uno bravissimo può trovarsi in una condizione difficile. Uno inserito in una situazione più complessa di relazioni, una condivisione, il networking, è impossibile che si trovi da solo. Mai. Questo siamo noi. Il networking è questo. Bisogna aprirsi, non bisogna avere la volontà di essere il numero uno. Non esiste più questa logica. Quindi il mio è un forte ringraziamento, ma veramente un grazie. Un grazie a te per quello che rappresenti e un grazie a questo tipo di Veneto che vuole intervenire. Il fatto di essere qui è qualcosa di più. È un'idea, uno sforzo. È l'idea di partire, di ripartire. Quindi in realtà questo mio intervento voleva solo essere un inizio di qualcosa. Grazie. Infatti avete capito perché l'ho scelto per iniziare la conversazione. E visto che c'era la chiamata, io chiamerei Paolo Franceschetti, perché così entriamo anche quella parte meno istituzionale. Paolo, lo scorso anno, a parte che ha vinto tutti i premi, perché è una persona fastidiosa, tutti i premi, dopo ho guardato il curio, effettivamente non ha vinto solo il nostro premio, il premio Marzotto lo scorso anno, ma ha vinto dall'MIT al premio Nazionale, tutti i premi li vinti. Per cui adesso non lo invitano neanche più ai premi, perché sennò lo vince. Ha vinto, è l'esempio che si possa fare anche qui, in questo territorio, innovazione che riesca a mixare contenuti tecnologici con contenuti anche sociali, perché una delle ragioni del premio è premiare anche aziende che creino una nuova economia del futuro, che non siano semplicemente soldi per far soldi, ma aziende che creino anche delle esternalità positive. Solva, tra l'altro, che è il nome della sua azienda, ha ricevuto lo scorso anno 250.000 euro di premio, è incubata qui al Vega, per cui c'è un legame profondo. D'altro punto di vista, di giovani imprenditori, che coordine anche un team importante, uno staff di altri giovani imprenditori con te, come prendi le parole di Alberto Baban? Grazie della presentazione, anche troppo lusinghiera. Le parole del dottor Baban sono sicuramente di stimolo per noi, noi siamo una giovane azienda che è nata un anno fa e siamo all'interno di questo incubatore e anche grazie al premio Marzotto stiamo cercando di crescere, ma soprattutto stiamo cercando di entrare in quel network di interazione che ci permette di crescere, anche noi da giovani inesperti con magari una buona idea non avremmo potuto arrivare dove siamo arrivati, cioè a portare quasi a industrializzazione il nostro prodotto, a poter sviluppare la nostra idea se non avessimo avuto una serie di relazioni che ci permettono di trovare un posto dove stare, che è appunto qua il Vega, un modo di operare e creare nuove interazioni anche a livello internazionale. La nostra idea è partita da una cosa a dir poco potremmo dire semplice come ideologia, cioè riprodurre il ciclo dell'acqua all'interno di un sistema chiuso per avere acqua potabile attraverso solo e esclusivamente l'uso di energia solare. Partendo da questo principio abbiamo sviluppato un sistema che è non altro che è una serra particolarmente avanzata, all'apparenza semplice ma allo stesso tempo avanzata dal punto di vista termodinamico e di processo in maniera tale da evitare di avere quanto più possibile manutenzione e non presentare costi per la depurazione dell'acqua. Questo processo poteva rimanere un'idea accademica o di un lavoro di tesi, invece grazie a una serie di mani che sono intervenute a sorreggere e far sbocciare la nostra idea, sta diventando un'idea imprenditoriale che senza tutto questo network che qui vediamo non avrebbe mai potuto nascere. Adesso siamo partiti che eravamo sei soci, di primo pelo potremmo dire, adesso abbiamo assunto tra quattro persone, stiamo crescendo, abbiamo creato un network, ci siamo fatti aiutare anche dal punto di vista manageriale e quindi abbiamo cominciato a prendere i primi lavori e stiamo diffondendoci a livello internazionale. Grazie a te. Ovviamente adesso che ho chiamato Paolo non posso che chiamare il pastore di start up come è stato definito, poi mi chiamo cristiano per cui tutto molto evangelica come cosa, per cui mi chiamo il pastore che è il direttore anche del luogo dove stiamo, che si è inventato anche Vega in Cube e mille altre cose, insomma scrittore intellettuale, hai avuto anche un passato politico, insomma perché è un sacco di roba, insomma, dovevo dirlo perché era facile come roba. Michele ci racconti cosa succede in Vega in Cube? Beh intanto volevo ringraziare tutti voi per la straordinaria presenza, cioè questo posto inteso come Vega in Cube ha meno di un anno di vita, è nato perché a un certo punto bisogna fare, perché se aspettavo che arrivassero i fondi di investimento, gli aiuti di autorevoli istituzioni locali probabilmente non saremmo mai partiti e per cui si fa, si fa assumendosi del rischio ovviamente. mi auguro che i miei azionisti riconoscano questo rischio, altrimenti pace, so che ho fatto una cosa importante. È partito su Facebook e su LinkedIn, perché il reclutamento di chi volevamo portare qui l'abbiamo fatto esclusivamente usando il mondo social. c'è stata una dura selezione iniziale, perché quelli che sono sopravvissuti sanno bene a quale selezione sono stati sottoposti e sanno che quotidianamente sono sottoposti a selezione, perché qui si arriva per diventare imprenditori, o almeno proviamo a diventare imprenditori. E questo è uno dei primi messaggi che vorrei dare. Probabilmente c'è un'intera generazione che non sta pensando di andare a lavorare in comune, o di andare a lavorare in un aslo, un'azienda pubblica di trasporto, che ritiene che il suo futuro sia fare impresa. E questo sta un po' sovvertendo le regole conosciute. Probabilmente la via della nuova occupazione passa attraverso la possibilità barra opportunità di fare impresa. Questo è un luogo. Di cosa hanno bisogno queste persone all'inizio, quando cominciano? Probabilmente di luoghi come questi. Luoghi. Cioè quando uno mi chiede, ma tu cosa chiederesti? Aiutateci a far crescere luoghi. Quando dico aiutateci a far crescere luoghi, noi abbiamo investito per portare 300 mega di banda. Non ci sono tanti posti in giro che hanno 300 mega di banda a disposizione per chi sta qui dentro. Marco peraltro è venuto quando abbiamo inaugurato. Questo è un posto dove c'è una struttura di cloud computing autonoma, di nostra proprietà. Quindi chi ha bisogno di sperimentare piattaforme cloud, di poterciare, di poterciare a sua disposizione piattaforme. A nostro rischio abbiamo assunto una tutor, persona che faceva manager in un'impresa messa fuori dalla crisi, presa qua a fare la tutor. In un anno abbiamo fatto 70 posti di lavoro nuovi, grazie alle eccellenze, a Solva, ma a tanti altri, poi alcuni li vedrete in questo pitch and vine, perché poi usando il social vine faremo, diciamo così, un po' di... tenderemo a rendere un po' virale l'evento. Questo abbiamo fatto. In un anno noi abbiamo fatto questo. Però noi siamo giunti al punto in cui o facciamo un certo salto di qualità oppure qualche problema cominciamo a averlo anche noi. Allora, francamente che da queste parti una camera di commercio non ti dia una lira, è una cosa che mi lascia assolutamente sconvolto. Che una fondazione bancaria qui dentro non ci metta una lira, pur essendo a volte miei azionisti, è una cosa che onestamente mi lascia abbastanza sconvolto. che nonostante qui dentro abbiamo vinto fior... e che nonostante qui dentro, vincendo fior di progetti europei, abbiamo sviluppato prototipi in materia di sostenibilità ambientale, intervento sulle bonifiche, in modo assolutamente d'avanguardia, in tutto con 12 persone, più le start-up, e qui dentro nessuno ti dà una commessa. Anche queste sono cose che in questa città ti lasciano abbastanza amaro in bocca. non perché stia chiedendo per me e per i 12 che lavorano qua, ma per quelli che qui dentro pensano di creare un'impresa. Quindi investimenti e risorse per quelle 70 persone che qui dentro ci hanno creduto. Non esagero dicendovi che se oggi avessimo risorse, noi abbiamo in questo momento la coda ormai di persone che qui dentro vogliono fare impresa, ma io non posso riceverle perché non ho pochissimi soldi per poter fare il salto di qualità, perché questo è un posto che potrebbe fare il salto di qualità, sapendo che qui intorno, come voi tutti sapete, c'è il deserto. E quindi questo potrebbe essere finalmente, dopo 15 anni, grazie Isi, dopo che sei venuta, dopo 15 anni che questo posto è stato fondato e ha fatto l'immobiliare, finalmente è diventato un luogo di innovazione e francamente non trovare, devo dire, da chi ci ha creduto la possibilità per poter decollare nel momento in cui c'è qualità, devo dire che ti lascia francamente con la mano in bocca. Ma non voglio guastare, anche perché, devo dire, grazie al premio Gaetano Marzotto, perché ci ha anche consentito di cominciare ad aprire un network più ampio con Italia Startup, con Frezza, peraltro alcuni suoi sono venuti qua. Quindi un network abbiamo cominciato a farlo, però questo è il momento in cui, lo dico con molta franchezza, noi abbiamo proprio bisogno di decollare, perché altrimenti lo sforzo che abbiamo fatto in tre anni di lavoro qui dentro, francamente sarebbe reso vano e sarebbe francamente non per me, ma per questo territorio, perché è una speranza di innovazione. Penso che Michele porti, insomma, dei temi assolutamente condivisibili. Infatti penso che questa sia anche un'occasione un po' disruptive, che bisognavano per un po' gli schemi istituzionali che non funzionano più, insomma, che hanno bisogno o hanno bisogno di essere riattivati. I temi del finanziamento come della creazione di luoghi sono centrali. Io qui Ruggero Frezza, che tu hai evocato, che fa parte di un'altra, un'altra di quelle che sovivebbe nella vecchia politica, si diceva le eccellenze del territorio, ma che ha fatto esattamente un percorso, ha lasciato una via facile, come dire facile, già costruita di professore, si è inventato un percorso che è quello di M31. Oggi M31 è uno degli incubatori tecnologici di riferimento, non solo italiani, ma europei. Sono poche aziende incubate, ma di grande qualità. Comincia a generare anche un fatturato che ormai sfiora i 20 milioni di euro di consolidato. Grazie a Ferdinando Businaro si sono trasferiti, hanno stato questa evoluzione, per cui è stata rinventata anche il territorio, perché una villa di Scamozzi, che è Villa Duodo, a Monselice, oggi ospita un pezzo di M31. Ruggero? Grazie mille Cristiano. Un altro pezzo è ospitato qui al Vega. 35 ragazzi qua vicino. Nell'ex ufficio di Michele Vianello, è per questo siamo venuti, perché era molto bello. Però io devo fare un intervento breve e non voglio parlare di M31, perché tra l'altro hai già detto tutto tu, voglio parlare di una persona veramente incredibile, che è stato Giannino Marzotto. Giannino Marzotto, di fatto M31 esiste, grazie a Giannino Marzotto, che ha creduto in M31, in un momento in cui M31 non esisteva assolutamente. Ci ha creduto e ci ha creduto in modo importante, perché ha investito una cifra rilevante in un progetto che era un seme, non c'era ancora nulla. Siamo contenti perché oggi lui mi ha detto una frase allora, mi ha detto va bene Frezza ci sto, basta che non mi fai fare la figura del Mona. E ha detto guarda, mi ricordo benissimo che in uno degli ultimi momenti in cui ho avuto l'occasione di incontrarlo, ho detto guardi Conte, l'ultima cena offerta gentilmente da lei sua in Villa Trissino, c'erano cento ragazzi, cento ragazzi, ha detto la figura del Mona l'abbiamo superata, non c'è più, questo l'abbiamo superata. Ma quanto può fare un uomo che con coraggio intelligente, come usava a dire lui, di fatto sta cambiando questo mondo, perché ha creato con anche la maestria di Ferdinando e di Cristiano il premio che è diventato riferimento in Italia per questa attività, e M31 un incubatore che non esisterebbe senza di lui. Quindi grazie Giannino. Ovviamente sia Michele e sia Ruggero citavano il ruolo come dire di connettori, è importante che ci siano quegli curatori che riescono a far sì che le cose capitino. Questo penso sia stato un ruolo fondamentale che ha Ferdinando Businaro, che ha permesso a moltissimi progetti, in modo anche molto spesso silenzioso, di far sì che partissero da M31 al progetto Marzotto. Ferdinando siede in tantissimi consigli di amministrazione, ho perso il numero, 15, 14 più o meno, insomma attorno a 14, 15 consigli di amministrazione, per cui vede tantissime imprese, vede tantissimi business plan, vede tantissimi progetti. Penso che sia stato anche per te un modo per cambiare, cioè l'incontro con i nuovi imprenditori, con la nuova impresa, con questi start-upari, cioè obbliga a rimescolare le proprie certezze perché si vede un nuovo mondo che sta crescendo, per cui c'è una nuova economia, c'è una nuova impresa che sta emergendo, che rompe uno schema rispetto all'idea dell'impresa consolidata con il dress code, come dire, stanco, che è quello che vediamo sempre. Per cui in questo cambio, ti chiamerei Ferdinando, in questo cambio ci vogliono anche persone che abbiano la capacità di far sì che accadano alcuni rischi e che anche le istituzioni si assumano nuovi rischi. Grazie Cristiano. Ma intanto io volevo ringraziare Alberto Baban perché quello che ha detto e l'ottimismo che traspare nel suo dire è importante, io credo, perché dall'altra parte, per contrapasso, Michele, è un po' più stanco. In realtà io credo che noi dobbiamo assolutamente avere fiducia e credere in quello che facciamo. Quando Giannino Marzotto mi disse, ma io in base ad un bisogno che ho di restituire, quindi un principio di give back, ha voluto costituire questo fondo per poter erogare circa mezzo milione di euro l'anno in termini di liberalità per aiutare, assistere i giovani imprenditori o i giovani che volevano fare impresa, quando io disse sì, ma come facciamo, come costruiamo un qualche cosa che abbia senso? e lui mi rispose, Ferdinando ricordati di fare e dimentica di avere fatto, se avrai fatto bene saranno gli altri a ricordartelo. E qui rispondo a Ruggero e lo ringrazio. Si è parlato anche spesso di finanza, di economia. Abbiamo istituito quest'anno appunto il terzo premio è esploso, abbiamo il primo premio che vale 250 mila euro, il secondo sono 100 mila, il terzo premio, erano tre percorsi, lo scorso anno lo facciamo con SeedLab, H-Farm ed M31, per cui la possibilità di essere incubati in uno di questi tre incubatori, adesso gli incubatori sono diventati dieci, per cui c'è Books, la fondazione Filorete, H-Farm, i treppi di Torino, la Lewis, Enlabs di Roma, M31, SeedLab, il Talent Garden di Padova, che è una rete anche questa importante generata da Confindustria, The Hub e il Vega, per cui è nato un sistema veramente radicato. Su questo però grazie alla vicinanza anche con Unicredit, che ha creduto fin dall'inizio sul tema dei talenti, facendo proprio il talento dell'idea, tra l'altro l'amministratore delegato di una delle società di M31 è stato il primo vincitore del talento dell'idea, che è Stefano Gallucci. Chiamerei con noi, è qui Romano Artoni, di Unicredit. Romano, c'è sempre questo tema anche del credito, di finanziare, come continua ad emergere. Qual è il ruolo che può avere invece oggi una banca nazionale e internazionale come quella di Unicredit per aiutare? Con il premio abbiamo deciso di fare un percorso di sostegno, cioè non vengono erogati i denari, ma viene data una cifra importante di 150.000 euro in percorsi che permette ad un'idea di trasformarsi in un'impresa, che è un po' la criticità che manifestano quasi tutti i venture, dicono questo ragazzo ha una bella idea, però non ha gli occhi dell'imprenditore, non ha gli occhi del capitano di industria, non sa come svilupparla, non ha un'attrezzatura culturale. Per cui con il premio, a Unicredit diamo questo tipo di sostegno e di percorso. Però qual è oggi il ruolo di una banca in un sistema così articolato e complesso, dove c'è una parte, dove c'è una richiesta molto evidente di nuova impresa, di sostenere anche nuovi percorsi, perché ci vogliono anche nuovi occhiali per vedere quelle nuove imprese. Allora innanzitutto una grande attenzione da parte della banca, è proprio l'esperienza fatta col talento delle idee, col premio che abbiamo fatto assieme ai giovani della piccola industria, ci ha fatto scoprire tante cose, tra le altre cose ci ha fatto scoprire che come banca abbiamo una quota di mercato proprio sulle start up che è superiore rispetto alla quota di mercato dei nostri sportelli. Quindi vuol dire che c'era già un'attenzione e questa direi che è una cosa estremamente positiva. Personalmente avevo anche un obiettivo per essere qua oggi, mi fa molto piacere anche il tipo di effervescenza che si respira, è che la mia settimana è iniziata molto bene al Vinitaly, a Verona, dove lì l'effervescenza forse anche complice, il tasso alcolico poteva essere qualcosa di interessante. Poi sono reduce stamattina, è iniziata bene, stamattina ho avuto un incontro con la banca d'Italia, non regione Veneto ma un'altra regione del nord est e il discorso è precipitato a livelli che potete immaginare in termini di clima complessivo, quindi ritrovarmi oggi qua sinceramente mi fa estremamente piacere. Aggiungo un'altra cosa, noi siamo un gruppo che oggi è cresciuto molto, siamo una banca europea, siamo una banca senza dubbio internazionale ma non ci dimentichiamo mai la nostra origine, la nostra origine è molto nordestina perché qua abbiamo delle casse di risparmio molto importanti e qua abbiamo ancora i nostri azionisti italiani sicuramente più importanti. Bene, una delle cose più belle che ci sentiamo dire dei nostri imprenditori quando parliamo con loro è quando ci riconoscono di essere stati noi, la prima banca a seguire loro nella loro impresa o i loro genitori o talvolta i loro nonni quando è la terza generazione, è la stessa cosa di oggi quando seguiamo con attenzione la start up, quindi noi abbiamo veramente bisogno di vivere questa positività, questa cosa che mettete in evidenza in più di un'occasione perché è un po' il contraltare la positività di qualche cosa che invece è realmente negativo ma che del quale abbiamo bisogno di superare e guardare avanti con grande fiducia. Grazie. Tutto questo va ovviamente anche raccontato, eravamo un anno fa in Bocconi, c'era Massimo Monzio qui che è venuto a questa conferenza che fu anche molto divertente perché un professore bocconiano giovane disse no perché qua non abbiamo capito niente, dobbiamo ridisegnare completamente la Bocconi perché noi non formiamo bene, non siamo più contemporanei, non riusciamo più a generare una formazione adeguata alle sfide oggi contemporanee. Con Massimo ha intrapreso questo suo percorso sul mondo della start up e ha forzato un gruppo come quello di RCS a compiere anche un atto importante che è quello di creare un dorso dedicato all'innovazione, ma un posto che non fosse semplicemente un posto di racconto dell'innovazione, ma che aiutasse ulteriormente fosse un altro pezzo di raccordo di questa rete molto diffusa che si sta creando a nord-est e in Italia che serve per rafforzare effettivamente il sistema e cominciarlo a manifestare. Massimo? È abbastanza difficile riuscire ad aggiungere qualcosa dopo questi interventi e soprattutto quello di Alberto che condivido totalmente nella forza e nella determinazione con cui dobbiamo vedere le cose in un modo diverso. Ed è anche bello essere qui invitati in rappresentanza di un editore che è un sistema con un modello di business che in questo momento è abbastanza obsoleto e che quindi si sta allontando con delle difficoltà importanti. Quindi diciamo che quello che è nato con il Corriere Innovazione è stato il tentativo di creare un qualcosa di nuovo, soprattutto di andare oltre ai vincoli e ai limiti che ci poniamo tutti i giorni. Cioè la nostra, purtroppo abbiamo molto spesso la tendenza a considerare il limite della nostra visione come il limite del mondo. Credo che sia stato dimostrato sempre che questo è il più grande limite degli uomini. Quindi dobbiamo andare oltre a questi schemi ed è stato quello che abbiamo fatto un po' con questo prodotto, che ha la funzione prima di tutto di cercare di creare questo ecosistema, di mettere in comunicazione tutta questa effervescenza che esiste nel territorio e che molto spesso è lasciata a se stessa. E alla base di tutto questo c'è una mia convinzione fortissima che la missione di un editore non sia solo quella di informare, quindi di fare delle domande sciocche magari o domande negative, tipo quelle che facevano ad Alberto, quanti si suicideranno domani, è tremendo. Cioè un editore non deve solo informare anche in modo oggettivo o autorevole, ma deve essere in grado anche di formare questa società informando. Perché la cosa più importante che noi possiamo fare è creare i paletti entro i quali muoversi e creare quei valori che sono la parte portante della nostra società che ci permettono di andare oltre. Poi ho incontrato delle persone fantastiche che sono stati dei partner e che costituiscono il comitato scientifico di questo prodotto e che ogni mese si riuniscono ed è, vorrei invitarvi tutti ad una di queste riunioni perché credo che sia uno dei momenti più interessanti e più creativi che permettono a un editore che sia aperto alla società civile e alla società che fa, di creare un prodotto che è in continua evoluzione. Quindi parlare degli innovatori, da chi fa l'innovazione soprattutto, e indirizzando il prodotto al nostro target, il target del Corriere della Sera, che è la classe dirigente, quindi gli imprenditori ma anche i politici che molto spesso sembrano non sentire le nostre istanze. Quindi direi che lo stimolo che io vi do è proprio di andare oltre e non farci limitare dai vincoli, dagli stereotipi che anche in questi giorni di crisi e anche di modelli digitali a volte diventano dei vincoli veri e propri che non ci fanno andare oltre. No ovviamente tutto questo per vedere che dovremmo trovare una via italiana dell'innovazione, cioè trovare un modo anche per raccontare, forse per trovare anche modi diversi di rinnovazione, forse parlare più degli innovatori, non chiamarle start up, trovare un codice che definisca la natura di questo territorio che mixa heritage, tradizione, tecnologia digitale, estetica, food, fashion, tutta una dimensione per cui io arrivo da Milano, Milano oggi è infrequentabile perché si è concentrato il mondo, perché c'è il Salone del Mobile ed è forse l'unica fiera che è rimasta in città, che è rimasta a Milano, che è rimasta nel paese che è veramente internazionale, dove ti viene riconosciuto questa dimensione fortissima che è la dimensione estetica. Sei stato qualche modo chiamato più volte, perché Marco Zamperini si definisce funky professor in the web, per cui direi che è una chiusa perfetta per rompere gli schemi classici e canonici, poi l'ho visto, insomma, lui è più di un funky professor, è già un guru funky professor sul web, però non ti sei tolto la sciona, perché sei venuto nel veneziano, per cui è un rimando. Bene, grazie, io volevo solo dire che sono molto contento che stia succedendo tutto questo, perché finalmente la mia mamma ha capito che lavoro faccio e che il mio lavoro è interessante, perché quando ero più giovane, una trentina di anni fa, lei mi diceva, vabbè, però il figlio della mia amica fa il commercialista, l'altro fa l'avvocato, l'altro fa il medico, te l'informatico. Era un po' triste, no? Adesso invece è successa questa cosa meravigliosa, per cui ci sono le start up, come dicevo, che è un altro modo di dire imprese, imprese leggere, giovani, che partono su un'idea, e molte di queste imprese sono basate su un'idea legata all'information e communication technology. E quindi io mi bullo di questo, perché sono diventato una star, e come spero molti di voi, vedo che ci sono diversi capelli grigi davanti a me, facciano, insomma, mi sbatto abbastanza per dare dei consigli a questi ragazzi, perché nella filiera delle start up, che è abbastanza lunga, un pezzo importante è vero, sono gli incubatori, un pezzo importante è vero, sono le banche, sono quelli che possono dare del funding, ma un pezzo fondamentale sono quelli che fanno i mentor, quelli che aiutano questi ragazzi, quelli che creano un raccordo tra l'esperienza e l'entusiasmo imprenditoriale di questi giovani, che molto spesso hanno appunto una buona idea, una buona intuizione, sono favoriti dalle tecnologie dell'oggi, che rendono possibile molto rapidamente realizzare queste idee, però sicuramente hanno bisogno di guida e di aiuto. E io credo che ognuno di noi, tutti quelli che hanno parlato, sono persone che hanno avuto dalla vita, hanno avuto successo, hanno avuto soddisfazioni, è giusto e io per primo sento come un dovere questo di dover tornare qualcosa al paese. Io e tutta la vita che vado in giro per il mondo con orgoglio essendo un ingegnere software italiano che tanti anni fa sembrava quasi una barzelletta, era come dire un comico tedesco, sono simpaticoni tedeschi, proprio neanche sportello, c'è gli italiani organizzati, sembrava una battuta, invece io devo dire ho avuto nella vita tanti riconoscimenti da questo punto di vista, abbiamo fatto imprese straordinarie in Cina dove siamo andati a vendere del software, non a comprare manodopera a basso costo, in India, in Malesia, recentemente l'azienda dove lavoro è stata acquisita da una multinazionale giapponese che è la Nippon Telecommunication, dopo una due diligence di oltre un anno, quindi non è stato esattamente un acquisto di impulso. Siamo un paese, nonostante, ahi noi, la politica comunque che ha la sua credibilità dal punto di vista dei contenuti che produce, io recentemente ho avuto tutta una serie di contatti con degli investitori statunitensi che sono molto interessati ad esempio a investire nelle start up italiane, quindi credo che fondamentalmente il problema sia di avere fiducia in noi stessi, molte volte, ci lasciamo delle volte soverchiare dagli eventi esterni, invece noi siamo gli agenti del cambiamento, io faccio mio il motto di questo libro che si chiama Cambiamo Tutto che ha pubblicato recentemente il mio amico Riccardo Luna, che ha scritto in copertina perché quelli che vogliono cambiare il mondo non aspettano, lo fanno e questo è il tema che stiamo vivendo, questo è il tema per cui Michele nonostante le delusioni istituzionali continua a portare avanti la sua battaglia con successo, come vediamo, come tutti voi avete testimoniato che si può fare, quindi si può fare, cambiamo tutto. Grazie Marco. Adesso che siamo alla fine, prima ho domandato all'assessore, dico la chiamo, dice no no ma perché rovinare questo momento con la politica? E siccome è molto simpatica, quello che mi ha detto, io la chiamo allora adesso, perché mi ha detto insomma perché rovinare tutto? E siccome io seguo l'assessore, insomma che vedo che insomma invece c'è una certa stessa, è curiosa, la vedo molto curiosa rispetto a tutto il mondo della nuova impresa, eccetera. Si dice anche, si lamentava anche la dimensione della, in qualche modo dell'assenza o dell'incapacità magari delle istituzioni di capire, bisogna quasi colmare un gap tra la società civile, quello che va e quelli che fanno e anche le istituzioni, i percorsi delle istituzioni. Penso che un assessorato come il suo sia centrale per farlo, no? Si stia muovendo anche molto sul tema della nuova manifattura, di come rigenerare alcuni percorsi. Un minuto di battuta? Buonasera a tutti. Un minuto, prima dicevo non roviniamo tutto, insomma parlando di politica, anche perché ho sentito qualche flash giustamente, insomma rispetto alla politica che non è esattamente così entusiasmante rispetto al presente, però insomma credo che non ci raccontiamo niente di nuovo. Noi al di là insomma di quello che può essere la politica con la più minuscola cerchiamo nel nostro piccolo come Regione Veneto insomma di uscire da quello che può essere magari un momento difficile indubbiamente ma nel quale non vogliamo né sederci né allontanarci ancora di più dalle nostre imprese né non comprendere quali sono le sfide di oggi. E credo che parlare di innovazione, parlare qui poi con Michele, con tanti amici, con Alberto indubbiamente, parlare di innovazione oggi sia l'imperativo assoluto indubbiamente ma soprattutto quello di accorciare, accorciare tanto le distanze tra noi istituzioni e le imprese, cosa che noi stiamo facendo tutti insieme. Quando dico tutti insieme è perché lo stiamo facendo con molte persone che oggi sono qui e con tante altre che ci stanno seguendo, spogliandoci un po' ognuno di noi dal ruolo. Io sono la prima a farlo perché credo che si debba anche dare in qualche modo un esempio. Oggi davanti a un esempio così bello di questo premio io credo che le istituzioni a maggior ragione abbiano il dovere sacrosanto di affiancarsi, di mettersi timidamente al fianco e fare la loro parte. La loro parte vuol dire essere semplici, comprensibili, assolutamente raggiungibili e soprattutto comprensibili nell'arrivare al cuore dell'impresa, nell'arrivare al cuore delle nuove generazioni, dei giovani. Noi, ripeto, come regione lo stiamo facendo con molta positività alla fine, credendoci fino in fondo e le risposte arrivano, arrivano dal nostro tessuto imprenditoriale, siamo in Veneto, quindi è anche una realtà particolarmente favorevole, però io ritengo da inguaribile e ottimista che solo credendoci fino in fondo si possa effettivamente dare magari poco di quello che riusciamo a dare rispetto a quello che sono le aspettative, però bisogna farlo con una grande forza e soprattutto condividendolo. Io quello che sto facendo e quello che stiamo facendo insomma come regione Veneto, per chi mi conosce insomma, mi auguro lo possa confermare, stiamo veramente facendo la strada tutti insieme, partendo dalle stesse difficoltà e cercando di arrivare agli stessi traguardi, come se fosse e come dovrebbe essere insomma il bene comune, insomma credo che la politica poi sia questo, in qualche modo uno strumento per raggiungere un bene comune e migliorare la società, almeno questo ci hanno insegnato e cerchiamo di farlo. Ultima nota, prima di ritornare sui prosecchi, che mi pare ci siano, ho visto i bellini, no da direttore in questo caso, allora invece il premio scade il 30 giugno, per cui avete la possibilità di scaricarvi tutti i bandi eccetera eccetera, ovviamente non c'è un limite di età, insomma bastano idee interessanti, potete parteciparvi, ci sarebbero tantissimi ringraziamenti perché appunto è una piattaforma molto molto importante, sono ormai 30 i soggetti che i partner di questa iniziativa, a loro volta generatori di iniziative importanti, speriamo che questo insomma che è capitato oggi, di almeno come dire, se non portate a casa nulla portate a casa almeno un po' di voglia, un po' di brio e dite vabbè ce la possiamo fare, ci abbiamo voglia, ci scateni un po' di voglia di fare e di fare in modo nuovo che è un modo non più solipsistico come era tipico di questi territori, ma invece è un modo quello che vediamo qui, è un modo comune, aggregato, di costruire anche una nuova forma di comunità che vuol dire costruire anche una nuova società. Vi ringraziamo tantissimo per la presenza numerosissima e in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno, grazie. Adesso faccio il dittatore. 15 minuti esatti per le ombre, poi alle 17 comincia il famoso, non è un pitch, un elevator pitch, ma è pitch and vine, e cioè 6 start up che abbiamo selezionato, poi i nomi ve li leggiamo dopo, in 3 minuti si presentano. Naturalmente, hashtag, vega, vegincube, pitch and vine. Anche perché vorrei fare un po' di trend topic durante le presentazioni. Naturalmente, non si tweeta ma si usa vine, quindi in pochissimo tempo uno deve fare filmattino e poi lo lancia. Non è che la giuria attribuisce il primo premio. Fa il primo e il secondo, perché poi primo e secondo, su un tavolo interattivo, inventato da una delle start up che stasera si presentano, se la giocano a rasole. Quindi chi vince a rasole è il primo e la giocano su un tavolo interattivo. Quindi abbiamo fatto una roba un po' diversa da come si fa di solito. Un quarto d'ora per le ombre e poi cominciamo a fare l'elevator pitch. Grazie. 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 Grazie.